Salve, oggi voglio presentarvi questo nuovo apparato che serve per far sì che un autista non si addormenti durante la guida. Un apparato molto utile per la nostra sicurezza. Come vedete l'apparato si presenta di colore scuro, c'è questo piccolo archetto che occorre per poterlo poi fissare all'orecchio. L'apparato ha qui un piccolo altoparlantino da dove uscirà un segnale sonoro che ci avviserà nel momento in cui noi inclineremo la testa più di tanto. Adesso scendiamo nei dettagli. Qui vedete c'è un piccolo interruttore che serve per l'accensione. Adesso procederò ad una prova pratica. Adesso ho tirato in su l'interruttore. Tenete presente che questo oggetto va tenuto sull'orecchio in modo orizzontale. Adesso facciamo una prova. lo inseriamo qui nel padiglione auricolare. Come vedete l'apparato si presenta in modo orizzontale rispetto all'orecchio. Come io adesso inclinerò un po' la testa, l'apparato comincerà a suonare. Ok, come alzo la testa si rispetta. Adesso mi faccio in un operatore in modo che così sentite bene il rumore, l'allarme. Ok. Adesso rialzo la testa. Per far sì che il dispositivo magari diventi un po' più sensibile possiamo soltanto inclinare leggermente il dispositivo in modo che così diventa ancora un po' più sensibile. Come avete visto come inclino la testa l'apparato comincia a emettere il suono d'allarme molto forte che sentirete all'interno dell'orecchio. Come avete visto il dispositivo è semplicissimo da utilizzare. È molto leggero perciò non ci crea problemi a tenerlo qui per lungo tempo sull'orecchio. È molto utile per chi guida spesso o chi rientra magari tardanotte dopo essere stato a una cena fuori o a una festa o a un discoteca e quant'altro. Ci permette appunto di non avere colpi di sonno. Ok. Adesso vi faccio vedere com'è il funzionamento per la sostituzione della batteria. Qui ripeto noi andiamo a interrompere l'alimentazione perciò lo spengo tirando giù il tastino. qui sotto c'è un piccolo alloggio, un sportellino che adesso andrò ad aprire se ci riesco. Eccolo qua. E qui c'è la batteria. Molto molto semplice. Ok. Come al solito vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta. Mi raccomando utilizzate questo dispositivo antisonno perché è molto molto utile e ci evita degli inconvenienti spiacevoli quali incidenti anche mortali delle volte. Buona giornata e grazie per averci seguito. Ah, dimenticavo che l'apparato è in vendita sul sito del www.spiare.com. Arrivederci.